A livello fisico bacerei tutte perché quando sono uscito sono state belle ragazze, quindi al di fuori di qua magari quando bacio una ragazza come ho baciato Lilli è perché magari dentro ho sentito qualcosa che mi è scattato. E' appunto per quello e tu avevi detto che non volevi baciarla nel momento in cui sentivi qualcosa, allora tanto l'avresti baciata. Quindi tu provi qualcosa per lei, quindi è più avanti rispetto a... Lei è uscito cinque volte, comunque è una ragazza che si è aperta anche in un'altra maniera perché anche improntare l'esterna in una maniera fa aprire una ragazza o fa aprire me in una maniera, in un modo diverso da come magari si può aprire una ragazza o si può aprire un discorso rispetto all'esterna così o all'esterna rispetto a quella te, prima che c'è stata con te. Vabbè quindi cosa vuoi dire, che questa esterna non ti ha dato niente? Sto dicendo che anche la scelta dell'esterna, allora stando te qui non è facile comunque perché devi vivere parallelamente diverse emozioni, no? Grazie. 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 Grazie.